La Regione Toscana è pronta a lanciare il Patto per la lettura in occasione di Libri in Festa, la manifestazione che si svolgerà il 30 novembre e il primo dicembre alle Murate e alla Biblioteca delle Oblate di Firenze. Il programma è stato presentato dalla Vice Presidente della Giunta regionale Monica Barni e comprende maratone di letture, mostre e un bibliobus. Il Patto per la lettura è una sfida, visto che sono sempre meno le persone che leggono. L'obiettivo principale è ampliare la base di lettori e promuovere l'accessibilità alle biblioteche e agli spazi pubblici dedicati alla lettura e la bibliodiversità dell'editoria indipendente. La Toscana ha una rete bibliotecaria molto molto strutturata e quindi grazie alla rete possiamo arrivare in tutti i territori e possiamo collaborare con tutti gli attori della filiera del libro, le biblioteche ma anche chi i libri li vende, chi li scrive e chi li pubblica. Senza un'azione di filiera, di sistema non saremo in grado di raggiungere degli obiettivi. Il Patto per la lettura sarà sottoscritto entro l'estate 2019. La regione da tempo investe nella lettura investendo in biblioteche, archivi e reti documentarie e partecipando ai più importanti festival letterari.